eh sì mi si sente? mi si vede? ti senti? ok allora vi dico cosa è successo in pratica è crashato il gioco e mi sa che mi fa ripartire proprio da capo da dove ero rimasto ieri se c'è il salvataggio automatico eh vediamo se siamo sulla nave è successo con red in live ah no è ancora qua madonna adesso ricrascia ma non c'è il razzo vuoi dire un po' no ma questo da dove esce questo? ma muori ma dove lo hai? aspettate eh oh non c'è razzi ok mandamile anche a me Bruno se lo sta dicendo a me è bene io sono power ah lo sta dicendo a me crociera movimentata ma dove sono io? ma dove sono? ah ma sono là in fondo non mi intero è sgavatissima uptime follow follow age prova a fare follow age Bruno vediamo se funziona da bene ah adesso funziona guarda da un mese e una settimana niente a Bruno non va fallo tie red intanto mi metto qua davanti f un anno e quattro mesi ho fatto live da un mese e Bruno perché te non va? io mi seguo da solo ma adesso i mod lo ho non so non so cosa ho fatto in che senso i mod? ma io c'è il comando automatico di di streamlab cioè lo metto e lo fai in automatico non ho scritto niente io si ha everyone per tutti cioè in automatico dopo semmai ci controllo merda ricordamelo Bruno scrivimelo adesso su telegram se no dopo ci dimentichiamo bello se ci vado bello se ci vado ah dove andarsi perché davvero adesso va perché va? un mese e due settimane beh da quando ho iniziato a fare live è red da un anno secondo follower red esatto red e il primo indovina chi è red? Daniele dai non c'è nessun tesoro non c'è nessun tesoro non c'è nessun tesoro carlo ma eh si è Daniele dopo è happy tech ah esatto e ma io sto giocando credo il botto non spamma ah ecco perché allora ecco perché ecco perché oh sento qualcuno no ma questo ma devo fare lo stealth oppla no comunque non sono quanti altri comandi aggiungere ho quelli eh Bruno fa mia scrivi mi del dei comandi dopo sono dopo mi dimentico oh oh cosa giocano a tennis? cosa madonna succede? eh in effetti hai ragione caro air stone sponso ma sponso ma sponso la in che senso sponso cioè cos'è che sponso rizzi dove arriva quella fai? oh ma come fa a sparare? ma spara con un'arma? con un con un braccio ma siiii e eh niente non posso andare con il culo e niente pensavo di andare con il culo ma lo sponsor quindi sponsorizzi il tuo amico oh oh ma come cristo faccio? per cercare no vabbè è assurdo no vabbè è assurdo ma mi ha schiacciato il container dove devo andare? dove devo andare? carlo aiuto carlo aiuto prendi qui no c'è no lo vabbiamo Vabbè, ti vediamo. Che ero ucciso? Headshot. Uccide canne mozze. Oh, bello questo! Lento proprio! Oh! Malishotto! Pokémon letteralmente. Sarei just chatting? Mi prendo l'hammer qua. Ok. Come? Pokémon... Che senso? PKM. Portate il prigioniero nella stiva. La stiva. Grazie per la dritta Ransys. Ok. Ok. Non c'è un tesoro. Eccolo che è il tesoro. L'antico pendaglio di Minerva. Ma i termini di Red sono... Assurdi. Dretta nella tana delle leone. Diabola. Ehi. Andiamo a farle il silenzio. E' stelt, eh? Tutti zitti e nessuno mi vede. Cos'è stato? Shhh. Guardalo, guardalo, fiero. Ehhh. Chi sarà mai? No, come fanno... Come hanno fatto a vederli? Sì. Dai, esci. Ah, ho finito il colpo. Ma non lo prende. Dai che... Arriva quell'altro. Eccolo lì. Morto. Il PKM. Ma cos'è il PKM? L'arma? La moto? Il KTM? Pazzuto, Larry. Sì. Ma se nessuno mi... A parte che anche Bruno è confuso. Non solo io. Non prendi colpo. Ma soltanto... Eccolo qua. Oh, oh. Un laser. Vedo un laser. Oh, ma c'è in là. Ma chi sono questi? Ma chi sono questi? Ma lasciami. Ma muore. Ok. Ok. Confuso. Oh. Ok. Pochi proiettili. Pochi proiettili. Ah, Bruno. Prima di fare la live. Ho fatto due partite a Rainbow Six e le ho perse tutte e due. Oh, oh. Perfetto. Aia. Com'è fatto a far quello l'assurdo lì così? Black and white. Com'è fatto, Carlo? Eh, Bruno, io ho comprato Zofia. E, boh, mi dimentico sempre di usarla. Puoi modificarli emotico. 900 punti canale. Ma davvero posso. Ho messo... Ah, modifica. Ma no, non l'ho messo. Ho messo da solo. Comunque. Mi sa che devo cambiare... Tipo ogni cinque minuti quanti... Quanti punti vi danno. Sono troppi. Quanto è che danno? 350 a botta, mi pare. Fra botta. Ma co... Sono troppi, oh. Ma co... Pendaglio con perla rubini. E, più coinvolgimento. Sono troppi. Allora devo aumentare quello del... Dell'operatore... Di Rainbow Six. No, non vedo niente. Cos'è tutta questa luce qua? Una porta. Nella stiva. Nella stiva. Chi è la? Van Monitor. No, ma il lanciagranate è per... Devo farlo... Devo farlo... Cioè... Per precauzione. Comunque a me... A me non piacciono le... Le mod che fa la CKive. Ho visto le sue. Quelle che fa... A gatto. Quelle... Le ha fatte anche a Charles Leclerc. Quelle di Leclerc, mamma mia, sono terribili. Quindi... Non sembra mai lui. Vabbè... Basta che vai lì... Dici ciao... E ti regalano la sub. A me fanno sempre così. Pam! Ha punto esclamativo Prime, perché è il Prime per fare la... La sub, eh? Punto esclamativo Dona, punto esclamativo la sub. Ma chi è quello? Come fanno... Carlo io ho tant... Carlo io ho tantissi... Cioè ho tantissime, ho... Che cosa ti dico? Uno, due, tre, quattro, cinque... Ho cinque sub che mi hanno regalato tutti. Mai fatta io... Mai fatta una. La vedi la mia coroncina? No. Però se fai punto esclamativo sub, puoi farlo anche senza coroncina. Io finisco la prova del Prime il quattordice. Bruno ti passa a creare un nuovo account Amazon, colleghi la stessa carta... E... Attive... Ah no, 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 scherzo, no, Twitch, no... Bruno devi essere regolare, non puoi fare... Queste cose. No, Bruno, poi dopo ti spiego, è che qua siamo con gli amici di Twitch che... Ci sentono. Io ho cinque sub, sì. Va bene così. Va bene così la descrizione che ho fatto per il Prime. Per chi non capisce... Può capire. Ne so un tot. Titanius Red. Gaita! Gaita! Gemello con Ametista. Non c'ho il sub count. Bruno. Kangraver sicuramente ce l'avrà. Eccolo lì. Ho trovato 40 tesori. Enello d'oro con Ametista. Eccolo la! Ma i saldi, ma non sembra lui. Ma Red, come fai a sgamarmi? Ah sì, Bruno. Visto che lui è bravo. Grande, Jackie. Il carro lo metti per il meme. Lo volevo ringraziare. Eh, perché ho iniziato a lavorare. Cioè, nel lavoro alla sera. Però ho iniziato alle... Dalle sei alle nove, mi sembra. Ho fatto una live di mattina. Ma cos'è questa Cadillac? No, Cadillac. Rolls Royce. Rolls Royce. Rolls Royce. Non è lui. Lo sapevo che non era lui. Ma si vedeva da là in alto. Ma quante ne so. Guarda, adesso vuole il cameriere, vero? Ah no. Hai già dato troppi problemi. Troppi problemi. Hai il momento di chiudere la questione. Non l'hai mai avuto, vero? Certo che no. Ho mentito. Ricordi? Eh, Bruno. Ovviamente è sempre buggato Twitch. Lanciala. Bravo. Pam. Era un mitragliere quello. Ma da dove escono? Capitolo 15. Nuota o affonda? Guarda, visto che mi è servito... Visto che mi sono servite lanciagranate, Carlo. Va, va, va. Oh, ma cosa vogliono quelli? Stiamo affondando se non lo aveste notato! Ma scusa, ma l'avevo ucciso. Perché è tornato lì? Eh sì, tantissimi. Come non è morto? Adesso arriva quello con il scudo. Ottimo. Oh, ma chi è? Ma da dove esce? Stiamo affondando se non lo aveste notato! No! Perché ha preso questo? Aspettate, mi metto qua per recuperare vita. Allora... Mmm... Basta ammirarmi! Sì! Ok, vedete che avete voi? Oh, basta! Che è là! Ma... Perché non lo prendo? Gamma intranciata. Sì 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 sì. Ancora da qua? Baaasta! Ok, dobbiamo andare qua. Ottimo. Aioh! Ma cosa scendi? Vabbè, in faccia mi sparo. Ma come faccio a scappare? E poi dove scappo? Di lì? Ma va, ma come? Come faccio a scappare? Corri, ma dove? In che direzione? Eh, sono entrato la linea alto, dìo. Come posso dire di prenderla in alto? Certo. Dai, muori! Vabbè, prendo questa. Anzi no, mi serve per uccidere quell'altra. Dov'è? È sparita! Ma... Ma chi mi ha ucciso? Ma chi mi ha ucciso? Ah, l'ho schivato. Non so dove andare. Da ce n'è uno, ma se non lo uccido vado avanti. Ma dove avanti? Ma dove avanti? Non so dove andare. Forse qua in alto. Ahia! Dove Cristo devo andare? Ah, è tutto ancora da fresco. Ma non mi può far partire dalla seconda fase. No, vabbè, è impossibile. Ok, allora dietro non c'è nessuno. In alto non c'è nessuno. Qua no. Là no. Ok. Abbiamo constatato che non c'è nessuno. Allora spariamo là in alto. Non muore. Mi era scrittato. Devo uccidere quello là per farlo andare avanti. Devo uscire da qui! Cosa? La cosa? Uh. Madonna ce l'ho fatta. Tutti spariti in chat. Con il Naboo che ho fatto. A cuore vargo. 습chik no. Oh oh. Corro. Ma scherzo bruno. Lattitante. Eh no. Triangolo. ma caro nel 2020 ti metti a studiare nel 2021 scusi eh fai bene caro dove stai studiando? stai studiando come uccidere i boss su Sekiro immagino eh dio cristo dove vado? giù? no e dove andava? ma voi sapete se le live si possono unire? tipo c'è la live che di prima che quando si è staccata non posso unirla a questa qua uffa ecco lei sopra ok vieni un po' la testa porta porta tovagliolo rococò in argento questo rococò bene di qua pam no ah ma dove ero prima r o c o c o con l'accento sulla o rococò si intendevi questa frase? parola oh ma io dove ero prima qua assurdo va com'è diventata la hub mi sono alzato dal letto e stavo svendo ti sei alzato troppo velocemente anche a me capita oppure stai morendo perchè non hai abbastanza zucchero in corpo ah perchè funziona l'ascensore red ma io in una live non mi ricordo da chi? forse da epitech dicevo che avevo tipo mal di testa qualcosa e lui mi diceva cos'era o era da lui o era da fsp o da toporagno tipo peggio di così non può andare no invece si se deve andare ma come chi è toporagno? red ma non ti ricordi? madonna l'amnesia un'arma si spara eh si che si spara ancora uso il fucile acquario acquario allora non eri te che guardavi toporagno insieme a me non mi ricordo e prendi si e scrivevo ma toporagno e scrivevo epitech e lui diceva ma chi è u? ma chi è u? adesso cambia un nome e diventa toporagno che è successo? si ma come fa a cambiare così velocemente il moto ondulatorio della nave e poi come faceva la nave se era così era uno streamer red era un ex streamer mi regalava giochi mi regalava casa e ricordo che gli avevo fatto mangiare l'aceto gli avevo fatto bere l'aceto e gli avevo fatto mangiare il pepe si ma giochi da 2 euro di steam oh il condor comodo 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 ma dove son finito nel deserto come nella copertina del gioco d'accordo d'accordo sì sì capisco potresti richiamarli se per uno c'era waifu vedete devo studiare una cosa e aspetta redd ascoltiamo questo piano ok stanno preparando un cargo all'aeroporto lanceranno le provviste sulla carovana madonna madonna dalla nave all'aereo sai che questo significa far cadutarsi vero? ancora come nel primo esatto esatto e no redd perchè te lo devo dire subito? aspetta c'è la lore c'è la lore ascolta la lore riposati che brutto divano ma cos'è sembra questo è sembra questo è sembra per salvi ma certo patriota sembra mi piace come ragioni lo so no eh mi intendo che 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 non lo so non lo so allora bruno redd c'è una cosa che bisogna fare dovete dirmi se no vabbè dopo eccolo lì finisce questa eh ok tieni cavoli spero proprio di non doverla usare lo so ma dobbiamo agire in silenzio ci vedono salire a bordo siamo morti ok mi dovete dire quanto russia fobia da scaricare fanno in live stasera al posto di fasmofobia non avrò altre possibilità dovete dirmi quanti secondi dura l'annuncio che sto per mandare se vi arriva se tu ci funziona se tu ci funziona la funziona funziona come non sta funzionando l'annuncio che ho appena inviato 60 secondi 30 secondi rimanenti ah no aspetta forse il countdown poi parte sfruttatissimo ma cosa è per vedere forse parte appena finisce il countdown ma non funziona siete da pc da pc o da telefono 5 4 3 2 io da telefono sono da pc e niente non va oh non so perchè non va come la categoria non ce l'ho red zitto zitto red io l'ho fatto per il canale cioè per far per vedere se funzionava o no e a quanto male a quanto pare non funziona perchè non funziona qualcuno ha soluzioni hai un no poi quando diventerai affiliato Carlo farei partire pubblicità e le vedrà tutto il mondo allora aspettate cambio titolo della live perchè non c'entrano più niente le acque citate dalla nave all'aereo nooo ma red in teoria ma in teoria ma in teoria la devono vedere tutti i red 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 che stai a di? non la vedono tutti non la vedono tutti una piccola una piccola parte degli spettatori la vede siete in quattro cioè uno su quattro la dovrebbe vedere però nessuno comunque la tipa ha detto che se arrivo all'affigliazione mi da il suo prime per il canale ti da il suo prime? che senso? si abbona te? dall'altra parte sembra esserci un'uscita si abbona te bruno ah oh è inciampato ma come non ti segue? fatti valere bruno spammati devi che sei più forte di power tu sei bruno spostiamo un camion no lo guido io maledetta che salutiamo sempre ah sei meglio di Matteo ha detto quanto manca? ci siamo quasi non fermarti hai provato a cercare le chiavi continuo a spingere ok tieni la perna ci salgo sopra bravo forza presto cedo non resisterò allungo ma nooo ma scusa non può mettere il freno a mano ma ma può mettere il freno a mano scusa può mettere qualcosa dietro le ruote nooo ho fatto un po' male alle dita sai che mi sa che morire per davvero per la jeep no no qua no sembra di fare una missione stealth in GTA guarda che bestione guarda che bestione ah eccolo la niente tesori eh ma devo scendere? c'è qualcuno c'è qualcuno senza parlare e infatti eccoli la qua pam vai a giocare a monster hunter ma quando hai monster hunter? red vabè monster hunter Shhh, l'ho visto Morti tutte Ora andiamo su Switch Poi me lo compro Word per PC Ancora non hai comprato Word per PC? Madonna, ma che poi oltre a Word devi comprare anche Iceborne E Iceborne è quello più bello Cioè... Ah, apri Bruno, inviami l'amicizia su Steam Comunque devi giocarti Word E anche... Iceborne, che è l'espansione che è enorme Bro, Bruno O Ste Tusk o Ste Zana Qualcuno, uno dei due Madonna Red Ma... scusa Ehm... Word Word costa... 20 euro tipo E Iceborne 20 euro anche quello Un gioco del 2015, a me... No, del 2015 no Forse... Forse del 2017 Sì... Possiamo fare come più Mi sto la silenziata Come fai ad avermi di già? Bruno? Da quando? Sta scivolando! Sta scivolando! Oh, 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 l'ha detto! Cazzo brutta storia! Molto, molto brutta! Ma cosa stai... Ma cosa stai... Non so... Red, io non mi ricordo mai di averti... Aggiunto... A parte non... Una volta che ho giocato a Steam è stato tipo... Due anni fa Ho una marea di giochi ma non posso giocarci perché... Il piccino mi regge C'è magari avere un computer come quello di Red Con i led, con tutto Con i led, i red con i led No, non mi hai visto! Ma è l'ultimo, dai! Ma... Addio al fattore sorpresa! Dobbiamo liberarci subito di loro! Tieni giù la testa! Perché non riesco mai a fare le cose stelle? No, questo lo tengo... Dove è la pistolina? Ehm... Morto... Eccola qua! La micro! Ehm... Ciao Red! Grazie per esser passato! Ti voglio bene Red! Ehm... 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 Oddio Ah ma ancora quello là Aia da dietro Bravo E' morto Oh cosa ha fatto quello là Ho visto usato l'arma Silenziata Dove è andato? Ma lasciami Oh Ho sbagliato Madonna No 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 Ok Vediamo se l'ho ucciso da qua Headshot Perfetto Perfetto Visto Oh leva Ok ce l'abbiamo fatta Allora già questa cosa è meglio del capitolo di prima C'è più azione C'è la precisione Hammer Ormai tutte queste cose Prendo il lancio a granate 12 proiettile Ma Bruno alla fine Hai fatto tutte le parole Manca poco E' al di là di quel tetto Ok E la madonna Quanto gigante E devo salire La Ok Ok Da qui in avanti Sembra libero Già Allora Arrivo in cima E poi ti aiuto Bene Coprimi ok Ehi ma che Ma cosa stai Elena ascolta Diavolo Lo sapevo che avresti provato a fregarmi Non Ti prego Ancora 300 Bruno Ci sei eh Non voglio che succeda mai più Quindi prendi quel fuoristrada laggiù e vattene da qui Ora che puoi Non ti resta molto tempo Il minimo è la 2700 E ci sei arrivato il minimo Quindi Sei a posto Ci sta Bruno Non l'hai ancora consegnato Vabbè Dove è lancia granate Dove è Ma non lo vedo C'è la luce addosso Aspetta eh Ma forse devo riconsegnare Per quello che faccio E ancora Devi farlo Ma mi fa spawnare In mezzo al fuoco Mi fa spawnare Con questo No ma Aspetta Aspetta Perché mi fa spawnare Qua in mezzo Ok Ok Ah, eh, perchè non avevamo aggiornato ancora qualcosa lì, vero? Il sito e tutto, il casino che c'è. Pam! Perché ha lasciato la pistola? Oh, l'arma! Madonna, ci arrivo, eh! Aspetta! Dove va? Eh, niente, l'ho perso. Ma... Brava! Bravissima, Elena! Un ripasso di ginnastica! Attento! Tu tieni la ferma! Ok... A sinistra! Un po' più là! Un po' più vicino! Un po' più vicino! Opla! Addios! Abbiamo messo! Un po' più that's the other! Maggiata! Bubum! Ma quindi... Ma poi questo... Questo aero va... A schiantarsi in mezzo al deserto! Ma scusa, è la copertina del gioco... C'è questo... C'è questo aero qua in mezzo al deserto esploso. Spoiler, no. Clandeschino. Mi sa che finisco qua. E anche per oggi è mi andato. No, no. No. Io soffro, sono claustrofobico io. Eh, più di un'ora, Bruno. Sono all'80%. Vediamo chi sta facendo Uncharted, va? Debo 89. Dai, Bruno. Come fai a non capire? Vabbè, c'è un italiano in live con scritto Finirò Uncharted 2. E l'unico video, l'unico live del suo canale è quella. Così. No, vabbè, non faccio un rai da nessuno. Oggi, dai. Dai, Carlo, diglielo, va, che devo staccare la live. Faglielo intuire. Capito, ok Dile se ti lascia il follow, Bruno Le gilf, ok Chiama le gilf E te, Bruno, sei andato via da quella casa perché è andata una creatura e te sei scappato E' vero, guarda che Bruno può raccontare tantissimi aneddoti Perché ti ha detto così, Bruno? Scusa, io c'ho la voce e dice thank you Grazie di cosa? Ah, ok Beh, Bruno voleva segnare una cosa Carlo va diretto così Ma poi Carlo, scusa, facciamo parte della cricca di FSP Cioè, siamo tutti di FSP noi, eh Anche te oramai Aspetta, io faccio un bello screen da inviare a... FSP TV E ci vediamo domani, forse Ma pure io, Bruno Pure io Io ero timido a parlare Cioè, lo sono ancora, però ero timido a parlare con le persone Tipo a fare le live, ero timido Più ho detto Me ne frego E... Niente, ho detto me ne frego e basta Adesso sto facendo delle live quasi ogni giorno Sì, oramai è un sex symbol È un ringo Beh, stacco, eh Ci vediamo domani, ragazze Fate i bravi E... Buona serata Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.